Presidente, all'inferno è il ritorno questa partita dalle forti emozioni? Non so, abbiamo fatto così un po' a freddo, il campo era pesante, quindi sviluppare anche un gioco pallone era difficoltoso. Alla fine credo che comunque il risultato è sicuro, perché secondo tempo c'era solo una squadra in campo, abbiamo creato diverse occasioni, mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi e si vede che stanno lavorando con sacrificio e con grande serietà. C'è stato in particolare qualche calciatore che le è piaciuto in modo particolare? Beh oggi sono stati bravi tutti, il titone ha fatto qualcosa di visto, lui ha queste caratteristiche, diciamo che ha dato quella marcia in più in attacco che ci serviva, non ci serve più tempo. Non abbiamo ancora visto la classifica, ma la Sam dovrebbe essere uscita da zona play out o comunque aver fatto un passo molto importante oggi? Beh oggi i tre punti erano importantissimi, ma noi dobbiamo guardare domenica per domenica, dobbiamo cercare di giocarcela con tutti, con serenità, con tranquillità e con molta umiltà. Andiamo sempre a lavorare e poi quando sarà il tempo di respirare, respireremo. Grazie.